Oggi Aldo si trova Bellano Tartavalle Terme, guardare qui il panorama intorno alla stazione, che bello avere una casa qui. Sto chiedendo, sto chiedendo anche in questo comune, è bello Bellano Tartavalle Terme, c'è una bella spiaggia dove c'è anche i corsi di vela perché è molto ventilato Bellano d'estate, devo dire che è un bel paese il treno nuovo e io sto aspettando il treno che va a Lecco Milano Centrale, però non è finita la giornata per me, mi fermo, mi fermo ancora a Lecco, il mio viandante è un girovagare, è un'emozione unica di paese, dopo paese, 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 partendo da Monza, Lecco, Bellano, Varenna, eccolo qua se non ci credete. Sono qui ad aspettare il treno per ritorno, vi saluto da questo YouTube del lago di Como, Sponda, non è Sponda le chiese, sono proprio in centro lago, proprio in centro lago del lago di Como.